Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale YouTube Filiopodico 65 Aquilas Coop e grazie per essere in mia compagnia. E' un'intervista battuta da pochi minuti e l'ha fatta Maria De Filippi sul giornale Libero, un giornale notoriamente vicino alla famiglia Berlusconi. Di cosa parla Maria De Filippi? Una Maria De Filippi così arrabbiata non si era vista quasi mai amici miei. Maria De Filippi una furia caccia Gaia ed Elodie da amici e dice mi vergogno per voi sui palchi tanto nudo ma poca musica. Praticamente il riferimento è al format che sta per partire nel mese di settembre amici che sarà un format diverso rispetto a quello degli altri anni soprattutto nelle prime puntate. Nelle prime tre puntate avremo amici di Maria De Filippi insieme a Verissimo di Silvia Toffanin e si farà la storia di tutti i vincitori e di tutti gli artisti che sono usciti e hanno avuto grande successo sia nel canto sia nella danza per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Ma entriamo subito nei meandri dell'articolo e vediamo che cosa è successo e perché Maria De Filippi si espone per la prima volta contro due suoi artisti voluti fortemente da lei ad amici lanciate da lei al quale non condivide appunto il loro modo di agire sui palchi. Una Maria De Filippi così arrabbiata si era vista poche volte direi quasi mai. Alle porte dell'inizio del nuovo format amici verissimo condotto da lei e Silvia Toffanin format fortemente voluto da Persilvo Berlusconi la regina della televisione ne ha per due delle sue scoperte musicali. Elodie e Gaia conosciuta anche come Gaia Gozzi e dice non solo questi non sono questi i valori di amici il nostro format su Mediaset canale 5 da 25 anni nei loro concerti prevale lo spettacolo senza contenuti. Ho visto tanto nudo vestiti e abbigliamenti al limite della indecenza e poca musica. Non si sa se i fan vanno ai loro concerti questo si chiede Maria De Filippi e lo fa una grande manager. Non si sa se i fan vanno ai loro concerti per i loro calendari viventi artistici viventi vale a dire per la loro nudità per essere nude o le loro canzoni. Ma vediamo di conoscere prima di continuare l'intervista che è molto cruda Elodie e Gaia. Elodie 34 anni esordisce ad amici nel 2015 voluta fortemente dalla The Queen Mary dalla regina della televisione Maria De Filippi dopo aver tentato di entrare nel 2009. Nel 2015 arriva seconda vincendo il premio della critica giornalistica Vodafone e il premio RTL 102.5 amici alla radio. Nel 2015 vinsero i The Colors di Stash e poi abbiamo visto il rapporto molto forte che c'è tra Stash e Maria De Filippi tant'è vero che spesso e volentieri lo chiama come giurato all'interno del format. Ha fatto tre Sanremo come concorrente e uno alla co-conduzione con Amadeus e Fiorello. Elodie ad oggi ha venduto due milioni di copie. Non è che abbia venduto granché diciamo due milioni di copie. Amori dal 2016 al 2018 è stata legata al collega Lele conosciuto durante Amici dell'anno prima nel 2015 e su questo fatto Maria De Filippi se ricordate all'epoca era molto contrariata. 2019-2021 è stata con il rapper Marrakesh. Dal 2022 è legata al pilota, ormai non lo fa più, ha lasciato le corse, molto ciclistico, quindi Andrea e Iannone. Poi abbiamo visto le foto, Mezzanuda, sempre sui social, questa cosa solamente a Maria De Filippi è stata sulle balle. Elodie, bisogna dire anche, è una sostenitrice dei diritti delle comunità, qua non so quante lettere hanno messo, io metto quante più possibile, LGBTQIA e più, quindi più chi ne ha più ne metta. Madrina del Gay Pride di Roma del 2022. Ha avuto tante tante collaborazioni. La rivista Forbes Italia, quando era ancora sotto i 30 anni, l'ha inserita tra le 50 donne italiane più influenti. Parliamo, questa rivista ve lo spiego una volta per sempre, c'è Forbes Mondiale, che considerò all'epoca addirittura Chiara Ferragni, quando era sotto i 30 anni, tra le 100 donne più influenti al mondo. E poi abbiamo anche Forbes Italia, che si occupa soprattutto di economia, ecco diciamo così. Aveva considerato, quando Elodie era sotto i 30 anni, come la tra le 50 donne più influenti in Italia. Nel cinema sicuramente sono arrivati i grandi successi. Nel 2021 viene scritturata per il ruolo di protagonista del film Ti Mangio il Cuore. Anche lì, se avete visto il film, c'erano importanti scene di Nudo, diretto da Pippo Mezzapesa. La pellicola viene presentata in concorso nella sezione orizzonti della 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e poi distribuite nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Per l'interpretazione della protagonista Marilena Camporeale, Elodie è premiata con un ciac d'oro, quindi vince un grosso premio importante, il ciac d'oro al Bari International Film. Elodie ha inoltre eseguito il brano colonna sonora del film Proiettili in collaborazione con Joan Chiele, scritto da Elisa. Il brano, immaginate amici me, che premio vince Elodie, che premio vince Elodie, il brano viene riconosciuto con il David di Donatello e l'Oscar per quanto riguarda gli artisti in Italia. È ambitissimo, quindi più importante addirittura per quanto riguarda la propria carriera del Festival di Sanremo. E questo riguarda il cinema, mi riferisco al cinema. Con il David Donatello per la migliore canzone originale e riceve una candidatura al nastro d'argento, alla migliore canzone originale. Nel 2024, immaginate quest'anno, quindi è stata nominata nel 2024 come ambasciatrice ufficiale di Save the Children. In passato lo era stato anche Povia. Se voi ricordate, quando presentò la canzone al Festival di Sanremo, i bambini fanno o sarebbe dovuto andare in gara, ma si preferì metterlo appunto come presentazione di questa iniziativa, altrimenti avrebbe stravinto la gara. Ma che cosa fa Elodie? Che non piace sicuramente a Maria De Filippi. Per quanto riguarda il prossimo anno, parliamo di gennaio 2025, sarà protagonista dello scandaloso calendario Pirelli-Tecol, completamente nuda. E in questo caso è stata attaccata anche dalla nota giornalista della RAI, Paola Ferrari, che ha detto che non si può fare carriera solo con lato B. E sicuramente queste sono critiche che hanno fatto male a Maria De Filippi e ha pensato a una sua esclusione per quanto riguarda Amici, che partirà tra pochi giorni. Passiamo a Gaia. Gaia, anche Gaia Gozzi, alla Nagrape, 26 anni, è italo-brasiliana, ha il doppio passaporto. Vince nel 2020, quella del Covid, la diciannovesima edizione del Talent Amici. Purtroppo per lei era senza pubblico e io lo ricordo, quel format, quell'anno, per quanto non si poteva portare pubblico in sala e quindi vinse nel nulla praticamente, vinse Amici, quindi nel 2020 per il Covid. Tre anni dopo, praticamente tre anni prima, dopo essere stata arrivata seconda, quindi Elodie Gaia vinse Amici nel 2020, tre anni prima, 2016, fine 2016, arrivò seconda a X Factor, quindi. Nel 2016 partecipa a X Factor, nel team di Fedes, aveva appena 18 anni. Nel 2020 vince Amici, nel 2021 Amadeus la chiama al Festival di Sanremo con la canzone Il cuore amare. Non va tanto bene, mi sembra che arrivi al diciannovesimo posto. La rivista Forbes, Italia, quindi cosa hanno in comune Elodie e Gaia? Il fatto che le prenda in considerazione una delle riviste, se no la rivista più importante per quanto riguarda lo studio delle prospettive lavorative di certi artisti, appunto, in Italia. Ed è Forbes, conosciuta anche in tutto il mondo. La rivista Forbes Italia l'ha inserita tra i 5, i 5 under 30, che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica. Protagonisti nel canto e nella danza. Quindi praticamente categoria musica, protagonisti nel canto e nella danza. Nel 2024 spopola con il singolo Sesso e Samba con Tony F. Gaia ha un amore segreto da 5 anni e conosciamo solo il nome. Si chiama Giorgio. Ecco, finiamo l'intervista che fa Maria De Filippi a Libero, quindi un giornale vicinissimo alla famiglia Berlusconi. Vediamo cosa dice. Maria De Filippi, una furia, sono molto contenta di fare questa esperienza con Silvia Toffanin e si riferisce a quello che inizierà tra poco, quindi Amici Verissimo. Sarà rivista tutta la storia di amici con vincitori e tutti i ragazzi diventati protagonisti nel canto e nella danza. Soprattutto quelli che si sono attenuti al nostro dogma, quindi alle nostre regole. Anche se non sono andati via da amici, si sono dovuti attenere alle nostre regole, ai nostri dogma. E vediamo cosa dice Maria De Filippi. Gli altri non verranno. Dispiace che Lodi e Gaia abbiano fatto parlare di sé più per il gossip spicciolo di quattro soldi che per le loro innate qualità artistiche e canore. Il programma Amici Verissimo sarà visto da molti adolescenti e noi dobbiamo essere di esempio. Lodi e Gaia in questo momento storico hanno violato determinati parametri. Io mantengo sempre i rapporti, ed ecco qui la lunga mano di Maria De Filippi sul festa di Sanremo, magari lo dice in maniera sibillina ma lo ammette. Io mantengo sempre i rapporti con gli artisti che vengono nella scuola di Amici. Lodi e Gaia hanno scelto altre strade che non si confanno con il nostro nuovo format Amici Verissimo. Ci saranno sicuramente altre occasioni per vederci. Ad oggi sono fuori. Questa, amici miei, era l'intervista che fa Maria De Filippi al Libero, battuta da pochi minuti. Vi dico Libero perché io molti anni fa ho collaborato con il Libero e quindi ho mantenuto ottimi rapporti sia con i vari feltri eccetera eccetera ma con molta gente che ancora sta dentro. Quindi uscirà nelle prossime ore, se non credo domani, questa intervista che Maria De Filippi fa a Libero in cui praticamente caccia per quanto riguarda questa revival, questo reunion di Amici Verissimo del mese di settembre, Elodie e Gaia. Amici miei, questo era il video di oggi. Se vi è piaciuto, come sempre un bel segui per quanto riguarda tutti i social e iscrivetevi al canale YouTube Filiopodico 65 Aguilascoop. Scrivetevi, per favore scrivetevi, è chiaro che voglio dire è sempre chiesto con grande cortesia. Quindi i like, i commenti, la campanellina per avere la notifica. E dobbiamo essere in tanti amici miei, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. E come dico sempre amici miei, vi voglio bene. Alla prossima.